Musica Ben trovati a Sport News Bianco Rossi al lavoro in vista della sfida di domenica 13 ottobre alle ore 16 contro la Maint Vero Volley Monza all'Eurosuole Forum. Desiderosi di riscatto i giocatori della Cucine Lube Civitanova vogliono tornare al successo sfruttando il fattore campo. E domani inizia il campionato di Serie B maschile di pallavolo. La Sios Nova Vetro San Severino è inserita nel girone E insieme a squadre di Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e San Marino. Il debutto alle ore 18 in casa al Palacio Arapica contro i Teramani del Montorio Volley. Nel frattempo la società San Severino Volley ha presentato la squadra in una conferenza stampa nel foyer del Feronia. Oltre al presidente Cesare Martini, il sindaco Rosa Piermattei, l'assessore allo sport Paolo Paoloni e il direttore sportivo Giovanni Soverchia. E oggi 11 ottobre la bocciofila Tolentino preseduta da Claudio Pascucci ha ospitato il quinto trofeo bocciabilità. C'eravamo anche noi di Canale 16, vediamo com'è andata nella sintesi del servizio. Siamo a Tolentino dove ancora una volta organizzano una gara per diversamente abili. Questa volta ha cambiato formula, una gara regionale a coppia dove hanno partecipato parecchi ragazzi. Siamo insieme all'assessore allo sport Alessia Pupo. Un suo pensiero Alessia? Io sono sempre felice ogni volta che vengo alla bocciofila per le tante incontri, eventi che organizzano. Oggi ancora di più. È la quinta edizione, quest'anno abbiamo cambiato la formula quindi a coppie. E ci fa piacere che ancora una volta abbiano partecipato degli atleti non solo da tutta la regione Marche ma anche da fuori regione. Per Tolentino abbiamo degli atleti che provengono dal centro Arancia e dall'associazione prossimamente con ottimi risultati quindi io direi che oggi è proprio una bella giornata che è dedicata allo sport, all'inclusione e alla socialità. Io qui sto vedendo e mi piace sempre ricordarlo dei veri e propri atleti. Aggiungo che l'amministrazione comunale a breve consegnerà un pulmino perché quando si fa sport gli strumenti sono essenziali per aiutare le associazioni e gli atleti. Un pulmino grazie a un bando della regione Marche, proprio sport e inclusione che sarà consegnato a breve. Abbiamo partecipato insieme a tante associazioni compresa anche la vociofila di Tolentino e quindi sarà a breve consegnato. Un supporto in più perché questi atleti vanno giustamente, gareggiano in tutta Italia e quindi potranno gareggiare meglio grazie all'usilio di questo importante strumento. Il ringraziamento oggi va a tutti i tecnici che sono qui presenti, tutti gli istruttori perché lo fanno veramente a titolo gratuito. E questo è uno dei valori importanti dello sport perché sì il gesto atletico ma anche importante l'inclusione e la socialità. Le autorità presenti premiano i secondi classificati, Mario Minnozzi, Samuele Gentili Tolentino. Claudio Pascuzzi, presidente della società pociofila, siamo arrivati a fine anno vocistico, ancora una manifestazione questa volta con il DITRE, con Diversamente Apili. Sì, quest'anno con i DITRE è la seconda pure perché l'altra l'abbiamo fatta, mi sembra, nel mese di marzo, se non l'ho errato, però era un torneo a squadre. Mentre quella di oggi è una gara a coppia e quindi sostanzialmente sono due cose diverse ma i soggetti sono sempre loro, i magnifici ragazzi DIR, appunto. Alla gara di oggi hanno partecipato ben dieci coppie, anche se inizialmente ne dovevano essere di più ma poi per vari contrattempi intervenuti per la società a cui appartenevo non sono più venuti. Quindi dieci coppie, di cui cinque coppie nostre, tre coppie Umbre e altre due delle altre società marchiciane, la Metaurense in particolare. Questo è uno degli ultimi tornei che ci sono per questi ragazzi, perché noi abbiamo pure Morovalle che li organizza, la società pociofila Fonte Espina, a livello provinciale, poi per non parlare a livello regionale. Anche se posso dire che oggi sono venuti a mancare qualche formazione perché d'altra parte venerdì, sabato e domenica ci sono i campionati italiani individuali e coppia organizzati dal regionale Marche presso Fano. Pertanto alcune società non hanno voluto sforzare più di tanto, anche se poteva essere un allenamento, ma hanno preferito rimanere per magari non farsi male, via dicendo, prendere malattie, che adesso è un periodo un po' così. Pertanto sono venuti a mancare, però la federazione italiana Poccia è molto attenta a questi ragazzi perché giustamente mettono impegno, c'è tanta volontà di giocare e divertirsi. Si è vista anche adesso la grande euforia che c'è in mezzo a loro. Un grazie particolare alla società pociofila Torrentino perché è sempre attenta, è sempre precisa. Tra l'altro ha iniziato un nuovo corso con una scuola, con l'istituto di San Ginesio, si sono allargati abbastanza e speriamo di poter tirare avanti tutto quanto. Un grazie di cuore alla società pociofila, il direttivo e tutti i collaboratori della società pociofila Torrentino. Prima, primi classificati, Adelpino Moretti e Andrea Rondini, Metaurezze. Grazie. Grazie. Domenica prossima a Piro ospita il 22esimo campionato italiano di lancio del rulletto singolo. Sui lunghi rettilini della cittadina maceratese, gli 80 lanciatori che hanno superato le gare di qualificazione si sfideranno per l'ambito titolo tricolore. I campioni italiani uscenti Luca Massi e Massimo Quercia Grossa cercheranno di difendere il titolo conquistato. La federazione dà poi appuntamento a tutti i tesserati al 27 ottobre, primo impegno della stagione 2024-25 con la gara di rancio della ruzzola singolo. Tutto è pronto anche per il 17esimo rally delle Marche, l'atteso appuntamento che il 16-17 novembre chiuderà il campionato italiano rally Terra 2024. Quest'anno per la prima volta la manifestazione prenderà il via da San Severino Marche. Sarà una competizione con un disegno nuovo il cui percorso interesserà, oltre al territorio di Cingoli, quello settempedano e quello del comune di Gagliole. Con i migliori perotti italiani del campionato pronti a sfidarsi, il rally si annuncia un evento imperdibile dove la passione per i motori incontrerà le bellezze naturali e culturali del territorio. E con quest'ultima notizia sportiva termina questa edizione del TG. A tutti voi un buon proseguimento di serata.